Noi non dobbiamo essere avversari, Homer. Vogliamo entrambi un contratto sindacale equo. Perché il signor Burns è così carino con me? Io do una mano a te, tu dai una mano a me. Aspetta un momento, mi sta facendo delle avance. Voglio dire, se infilassi una cosina nella tua tasca, che male ci sarebbe? Oh mio Dio, mi sta facendo delle avance! Dopotutto, i negoziati creano degli strani compagni di letto. Mi dispiace, signor Burns, ma io non sono di quella parrocchia. Certo, sono lusingato, forse anche un tantino curioso, ma la risposta è no. Lisa.